buongiorno a tutti siamo da stefano sorgato siamo a padova da lui abbiamo realizzato un intervento in superbonus 110 quindi ormai uno dei nostri famosi interventi con un impianto fotovoltaico da 8 kilowatt composto da 20 pannelli hyundai da 400 watt 20 ottimizzatori huawei un inverter huawei monofase da 6 kilowatt due batterie d'accumulo huawei luna 2000 da 15 kilowatt ora di capacità per una capacità totale di 30 kilowatt ora e una wall box tesla per la ricarica di auto elettriche sullo sfondo la sinistra vedete anche la pompa di calore sistema ibrido della daikin che abbiamo installato quindi sistema ibrido con pompa di calore da 8 kilowatt e stefano a te chiedo innanzitutto quello che abbiamo promesso in fase di consulenza è stato poi effettivamente realizzato assolutamente sì tutto quindi abbiamo fatto un intervento a costo zero quindi tu non hai sostenuto costi per l'impianto se non appunto il costo di allaccio all'ene che un paio di centinaia di euro credo ok e come è stato questo questo iter è stato laborioso è dovuto andare in banca a fare prestiti compilare carte in comune vita è burocratico è stato semplicissimo cioè avete fatto tutto voi e proceduto tutto senza nessuna difficoltà l'attività degli operai in quattro giornate mi pare circa due squadre due giorni l'una ha risolto tutto e ha messo in funzione all'impianto se tu dovessi consigliare questo intervento a qualche a qualche tuo amico cosa gli diresti direi assolutamente di farlo perché vale vale proprio la pena bene in fase di di consulenza iniziale eri scettico sul fatto che si potesse realizzare questo tipo di intervento oddio si scettico nel senso che sembrava sembrava troppo bello troppo bello esatto e invece alla fine alla fine è stato così bene ci fa molto piacere ti ringraziamo per la fiducia che ci hai accordato ti ringraziamo anche per questa tua testimonianza che ovviamente è linfa vitale per per il nostro lavoro quindi goditi il tuo impianto qualsiasi cosa tu sai che siamo a disposizione il mio numero ce l'hai batti un colpo e siamo qua grazie a voi